E' stato individuato nel pomeriggio di martedì il corpo del sub disperso sabato nelle acque del mare di Chioggia. L'uomo si era immerso nella giornata di sabato per vedere il relitto della nave Evdokia. Era con altri compagni ma lui non aveva fatto ritorno in superficie. Alle ricerche hanno partecipato i sommozzatori dei vigili del fuoco di Venezia, Vicenza e Bari che hanno cantierizzato il relitto per l'esplorazione in sicurezza dei diversi ponti che sono stati perlustrati nel dettaglio. La vittima è Giovanni Pretto, aveva 34 anni e abitava a Valli del Pasubbio nel Vicentino. Faceva parte di un gruppo di subacquei del Diving Center Isamar d'Isola Vicentina che si è avventurato nel relitto del cargo affondato nel 1991 dopo una collisione a causa della nebbia. L'immersione sui resti della nave sono particolarmente rischiose e già in passato era morta una persona rimasta intrappolata nel relitto che ha poco meno di 30 metri di profondità.